So che ci sono comunque youtuber che quando devono fare video del genere dicono sempre io questo video non lo volevo fare, no no, in realtà questo video lo volevo fare però non era previsto questo video Adesso come l'altro dove io ho citato per la prima volta sul mio canale Luca e tra qualche minuto uscirà addirittura la premiere in realtà l'avevo impostata alle 3.30 però la rimposterò alle 4 o perlomeno cercherò di rimpostarla 4 o 4.30 perlomeno si spera che questo video qua uscirà molto prima rispetto alla premiere molti di voi avranno visto la copertina che io ho messo la prima copertina che ho messo dopo è stata modificata e in realtà cerco di modificarla ancora di più perché lo capisco perché la scritta qual è il migliore con la linguaccia si bugga non sono dettagli, cercherò poi di modificarla su Paint e sì, perché se lo stesse credendo utilizzo Paint 3D non so che è strano però, anzi no, non credo sia strano credo che quasi tutti utilizzino questo ma sono dettagli e l'ammetto che è colpa mia il fatto che ho preso la prima segnalazione in un video cioè in praticamente quasi tre anni YouTube non ho mai visto, che ne so, video miei che venivano segnalati cose del genere invece questo qui è stato il mio primo video vabbè, video, prima premiere barra video segnata da qualcuno e addirittura da Luca e ammetto che è colpa mia ammetto che è colpa mia e non sto facendo questo video per attirare l'attenzione a quelli che in realtà sono stati in mezzo a questa faccenda qua e parlo ovviamente di altri collaboratori tipo e anche altri YouTuber tipo DJ Polistation, MettiSmash e Angelo che gli davano ragione però allo stesso tempo andavano contro di me cioè nel senso insultandomi, dandomi dell'incoerente e devo essere sincero me lo merito, ok? me lo merito fate bene a dirmi queste cose fate bene a dirmi cose del genere avete ragione avete ragione avete assolutamente ragione ma proprio assolutamente quindi l'ho modificata mi scuso per quello che è successo a Luca e già che ci siete per favore è innate tutto quanto così nessuno possa entrare in questa conversazione oltre a noi 5 ma comunque vi ascio alla premiere che ci sarà tra poco forse 4, 4, 6, 4 2, 2,5 non lo so dipende se questo video uscirà prima rispetto alla premiere o no bacione a chi mi supporta e a chi soprattutto riceve tanto supporto e chi lavora insieme a me e chi ti safe e chi si mi supporta